Tanti affari, ma quasi tutti in uscita. Dopo Melchiorri, Torreira, Ragusa e Politano persi alle buste le partenze di quei giocatori che erano arrivati in riva all'Adriatico in prestito, anche Bikir Biarrason ha salutato l'Abruzzo. In queste ore il biondo centrocampista islandese firmerà infatti con il Torino legandosi ai Granata per tre stagioni. Nelle casse del Pescara arriverà un altro milione di euro che farà salire a sei e mezzo il tesoretto incassato dalle varie cessioni. Ricordato che Torreira resterà un altro anno in biancazzurro è chiaro che ora bisognerà pensare soprattutto ad acquistare considerando che nei prossimi giorni potrebbe arrivare anche la cessione dell'albanese Levian Memusciai. Ma mister Massimodo è tranquillo, si ripartirà infatti comunque da un organico base di tutto rispetto. Riscattato Caprari ci sono ancora sotto contratto diversi giocatori che regalano garanzie oltre ai ritorni di alcuni atleti per fine prestito come Ciosic, Nilsen e Vukusic. Tutto come previsto anche per il portiere Vincenzo Fiorillo. Il giocatore a metà tra Juventus e Sampdoria è stato riscattato dai bianconeri che ora potranno rinnovare nelle prossime ore il prestito del giocatore al Pescara. Decisiva in tal senso anche la volontà del ragazzo che ha messo in cima alla lista la piazza adriatica ad ogni altra ipotesi di Serie B. Per la difesa Massimodo ha chiesto del grosso dell'Atalanta, il Bresciano di Cesare. Per il centrocampo con Torreira Brugman e Selassi in organico bisognerà rinforzare soprattutto le corsie esterne con la Zaverivic del Chievo fra le prime scelte. In attacco si pensa alla Padula ma non solo, c'è anche Corvia del Brescia che accetterebbe di ridursi l'ingaggio pur di trasferirsi in Abruzzo. Per la difesa si parla anche di un ritorno di Damiano Zanon.